Mi è venuta una mezza idea, ricordi quando ci siamo sposati? Io ti ho detto come sarebbe stato essere un orso? No, 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 sto parlando di quel sogno che avevamo, Peter Hai presente quando abbiamo cercato di aprire quel ristorante che purtroppo non ha mai preso piede? Sì, abbiamo dovuto chiudere per via dei miei dolcetti esplosivi Spero che il sapore sia buono quanto l'aspetto Ah, Gerald! Il segreto è tutto nella glassa, ma io non glielo dirò mai